Com'è la mamma? La mamma si è... Adesso abbiamo un paletto, la nostra famiglia si è stesa. Aggettivo per la mamma? Inizia con la F? Felice! Perché si è modernizzata anche lei finalmente, col bastone che derideva a tutti fino a un paio di giorni fa. Adesso l'ha comprato, perché effettivamente per fare video ci vuole. Ci vuole, ci vuole. Troppo felice. Siamo sempre nella via senza nome, nel vicoretto anonimo. I cinesi ci sono anche qua, che risolvono sempre tutti i problemi dei turisti che hanno bisogno di comprare oggetti che si sono dimenticati a Milano. O che comprano in vacanza, perché chissà perché si comprano le cose in vacanza ma non si comprano a Milano. Mistero! Poi però si lasciano assieme a tutte le altre cose comprate l'anno prima e l'anno ancora prima. Eccole qui! Le calamidate. Andiamo a scegliere le calamidate. 75, 10,6 euro e 50. Vabbè io già ne porto una a Cri, una a Botteghi. Una a mia mamma, una a mia papà. Va bene, prendiamo 10,6 euro e 50, buon così le abbiamo per tutti. Vabbè, ne prendiamo 10,6 euro e 50, buon così le abbiamo per tutti. Vabbè, ne prendiamo 10,6 euro e 50, buon così le abbiamo per tutti. Vabbè, ne prendiamo 10,6 euro e 50, buon così le abbiamo per tutti. Vabbè, ne prendiamo 10,6 euro e 50, buon così le abbiamo per tutti.